Pillole di non solo suoni Quando si parla dei Tears for Fears si parla anche e soprattutto del movimento new wave britannico dei primi anni 80. Ecco infatti che il duo, formato da Roland Orzabal e Kurt Smith, si inserisce in questo genere musicale, salvo poi scalare le classifiche pop internazionali. Il nome Lacrime di Paura deriva da una terapia psicologica che prevede di riprovare le prime sensazioni provate dall'essere umano in età perinatale. Dopo le prime esperienze con piccoli gruppi, Tears for Fears pubblicarono il loro primo singolo con questo nome nel 1981, anche se è l'anno dopo che divennero popolari con il terzo singolo, Mad World, che diventò numero uno nel Regno Unito. Faceva parte dell'album The Hearting, che fu pubblicato nel marzo del 1983 e caratterizzato dall'uso massiccio del sintetizzatore, come del resto accadeva in quegli anni. Ma proprio questo genere venne poi un po' abbandonato con il disco successivo Songs from the Big Chair del 1985, raffinato e con tematiche più ampie che facevano riferimento al governo di Reagan negli Stati Uniti e della Thatcher nel Regno Unito. Il successo fu enorme e immediato, con un quadruplo disco di platino, anche grazie a singoli come Mother's Talk, oppure Shout, prima negli Stati Uniti, Everybody Wants to Rule the World, oppure ancora Head Over Heels o ancora I Believe. Seguì un tour e un po' di polemica per la mancata partecipazione al Live Aid di Philadelphia, per dissensi pare tra l'organizzatore Bob Geldof e Orzabal, che non aveva ricevuto sufficienti assicurazioni sulla destinazione dei proventi a persone bisognose. Per l'album numero 3, The Seeds of Love, del 1989, la band spese una cifra enorme per la realizzazione. Il risultato fu però un disco con influenze jazz, blues, ma anche pop, un pop classico come quello dei Beatles. Tra l'altro ne faceva parte anche il singolo Woman in Chains, con Phil Collins alla batteria e Olita Adams alla seconda voce. L'album andò molto bene, ne seguì un tour per ripagare le spese, ma ormai Orzabal e Smith erano in rotta di collisione e così si separarono, per motivi diversi, dalle divergenze musicali a quelle personali. Sta di fatto che i due passarono buona parte degli anni 90 ad attaccarsi a distanza, specie tramite mass media. Orzabal pubblicò nel 1992 il singolo di successo Lead Solo Tears Roll Down, col nome di Tears for Fears, per poter lanciare una raccolta di greatest hits. Smith invece si trasferì negli Stati Uniti e impiegò diversi anni a riprendersi dagli effetti della notorietà. Nel 1993 registrò l'album Solo On Board, dunque dedicandosi alla carriera da solista e fondando, soltanto dopo, il duo Mayfield. Il tutto mentre Orzabal pubblicava un altro album, Elemental, sempre col nome della vecchia band, il cui singolo, Break It Down Again, raggiunse la posizione numero 25 della classifica ed entrò nella top 20 in Gran Bretagna, Francia, Italia e Paesi Bassi. Con Rowland, Kings of Spain, di due anni dopo, ecco maggiori influenze musicali latine, che però proprio per questo penalizzarono di molto il disco sul mercato. Sono state molte nel corso degli anni 2000 le ristampe dei lavori dei Tears for Fears, anche con Remix, non prima però di un incontro forzato, a onor del vero, tra Orzabal e Smith, nel 2001 per obblighi contrattuali dopo dieci anni dall'ultima volta. L'occasione però servì a chiarirsi e così i due tornarono a lavorare insieme. Il risultato fu Everybody Loves an Happy Ending del 2005. Ne seguì un tour, poi un lungo silenzio di nove anni fino al 2013, quando la band inglese è tornata in studio a registrare. Sono uscite nel frattempo due cover, ma entro la fine del 2015 si attende un nuovo album di inediti, e poi un grande tour per il 2016. Grazie.